con tutto questo casino per il trasloco non riesco più a trovare il set dei vibratori nuovi questi sono quelli vecchi prima mi sentivo vibrare sotto il setello ma ero solo il cellulare se penso che devo ancora mettere via tutte le cose dei miei ragazzi e di mio padre mi sento vibrare tutta ma sono comunque eccitatissima che stiamo cambiando casa questo trasloco è fichissimo ah aspettateci che noi veniamo the sun turners